Ma quanto è fastidioso ogni volta hai comprato un nuovo computer, dover installare programmi, dover andare su tutti i milioni e migliaia di siti, scaricare gli eseguibili, fare tutti i setup, se devo farlo solo una volta, insomma che noia! Oggi però ho trovato una soluzione! Bentornati su Tech, la sera del canale dove in ogni puntata vi farò un'applicazione di un programma video dei consigli tech, tutti in piccolissimi video. E quindi, iniziamo subito! E questa soluzione si chiama Ninite o Ninite, non lo so a pronuncia, è un sito veramente fantastico. Infatti una volta che andate sul sito ninite.com vi troverete una lista di programmi, ce ne sono veramente tantissimi e sono i programmi più utilizzati, quindi i browser come Chrome, Opera, Edge, ma anche altri come VLC, Revoli, Installer, Spotify, TeamViewer, Discord, Skype, Zoom, veramente tantissimi tantissimi programmi tra i più famosi, ovviamente non ci sono quelli un pochino più sconosciuti, ma comunque ce ne sono una buona parte che sicuramente avrete installati nel vostro computer. Andate quindi a selezionare tutti i programmi che vi interessano, tutti i programmi per voi fondamentali che dovete avere installati quando configurate un vostro computer, possono essere due, possono essere cinquanta. Andate poi a cliccare in basso su Get Your Ninite e il sito vi scaricherà nel computer un file exe, quindi un file eseguibile che potete salvarvi ad esempio su una chiavetta oppure su un cloud. In questo modo ogni volta che comprate un nuovo computer vi basterà inserire nel computer questo file eseguibile, avviarlo e automaticamente il programma andrà a scarcare da tutti i siti tutte le ultime versioni del software che avete scaricato e le andrà a installare nel vostro computer, tutte automaticamente. È anche abbastanza veloce, non dovete fare il setup manuale, quindi ok, accetti i contratti in licenza, fa tutto lui da solo. È un'applicazione veramente fantastica. E soprattutto ricordatevi che anche a distanza di tre anni dal download del sito, quindi se lo scaricate adesso e lo aprite nel 2023, la versione del programma che vi verrà installata è l'ultima disponibile, è quella del 2023. È una cosa veramente fantastica che irà velocizzare moltissimo la configurazione di un nuovo computer. Io vi consiglio di creare il vostro linite, tenerlo salvato su una chiavetta USB ed è qualcosa di fantastico. E soprattutto entrando nel sito in alto potete vedere gli ultimi aggiornamenti delle applicazioni, in modo da rendervi conto quanto frequentemente vivite aggiorno i propri database. Quindi ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto, mi invito veramente a provare questo sito che era velocizzato un sacco la vostra vita. La vostra vita no, però va bene, la configurazione del computer. Lasciate un bel mi piace a questo video, iscrivetevi al canale, e noi ci vediamo settimana prossima con TechPill. Ciao!